buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 22 aprile 2023 quindi vi auguro anche un buon weekend ci sono diverse manifestazioni per questo fine settimana poi ne riparleremo intanto vediamo questa mattina l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia san leonida di alessandria maestro di retorica fu martirizzato perché cristiano sotto settimio severo questa è l'immagine così raffigurata ipotetica di san leonida di alessandria vediamo le previsioni del tempo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata di oggi i venti saranno al mattino e al pomeriggio moderati di nord nord ovest il mare poco mosso le temperature hanno una lieve escursione termica da 10 a 17 gradi comunque la temperatura rimarrà pressa poco come quella di ieri e tra il fresco e il tepore primaverile questa è un po la sensazione che si ricava appunto dal caldo e dal fresco delle giornate e allora apriamo il giornale dal il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo subito l'apertura dedicata a quello che si prospetta per il vittoria colonna un convinto che è fatto oggetto frequentemente di frequentazioni abusive dove poi lì succede di tutto degrado sporcizia insomma episodi certo non qualificanti e vediamo il titolo ex convitto l'incubo è finito finalmente sarà sgomberato l'operazione partirà mercoledì prossimo e l'edificio sarà anche ripulito sanificato e reso inaccessibile era una un intento che già si prefigurava da alcuni mesi ma tardava ad essere eseguito nel frattempo si sono verificate diverse incursioni da parte di abusivi che hanno continuato a devastare l'interno dei locali seminando sporcizia facendo danni insomma sollevando anche le proteste dei residenti che temono per la loro sicurezza a parte poi per l'igiene di quanto accade all'interno dunque stop ai bivacchi e al degrado in questo grande convitto e dopo le lamentele dei cittadini e il blizze delle forze dell'ordine il comune interviene interviene con questa comunicazione che è giunta ieri si tratta di un provvedimento drastico l'edificio sarà completamente sgomberato ripulito sanificato e reso inaccessibile l'operazione sarà condotta nella giornata di mercoledì 26 aprile con la collaborazione della polizia locale del commissariato e della stessa amministrazione comunale certo non durerà solo un giorno questo provvedimento durerà due settimane in quanto l'immobile ha dimensioni veramente grandi enormi e i locali sono diversi quelli da risanare la struttura una volta liberata dalla sporcizia e ripulita a fondo dovrà essere resa veramente inaccessibile insomma dovranno essere rinforzate le chiusure in modo che non siano più valicabili come facilmente accade oggi si blinda l'edificio in attesa che l'invimit che è un po' la struttura che dal dall'inps ha avuto in gestione l'edificio trovi le risorse per risanare veramente il tutto non è semplice ci vorranno 30 40 milioni per trasformare tutto il complesso in una silver house un'abitazione di prestigio di diverse dimensioni mono b e tri locali per anziani over 65 questo l'intendimento però occorrono soldi e al momento non ci sono e quindi si blinda il tutto l'articolo di spalla del resto del carlino il turismo è outdoor arriva la brochure un'iniziativa assunta dall'assessorato al turismo presentata ieri in conferenza stampa dall'assessore etienne lucarelli da alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria si tratta di un'iniziativa che si accosta all'affano marinara all'affano gastronomica ora abbiamo un affano outdoor ovvero un ulteriore fonte di attrazione per i turisti che possono trovare affano tante occasioni per fare passeggiate per vivere all'aria aperta per praticare dello sport ebbene escursioni in bici trekking windsurf sap vela canottaggio yoga meditazione appunto questi sono gli sport le attività turistiche che si possono fare a fano e quindi un turista che può tranquillamente riposarsi ma non riposarsi nel senso di stare indolente riposarsi nel senso di evadere dalla realtà di tutti i giorni praticando cose piacevoli cose poi salutari come quelle che ho appena detto tutto questo è riassunto in un opuscolo cartaceo fano outdoor che si può consultare anche sul sito visit fano.info aiuta turisti efenesi a orientarsi tra le tante attività proposte fornendo indicazioni e riferimenti di associazioni circoli associazioni a cui rivolgersi insomma tutte queste associazioni che praticano queste attività e che possono appunto così indirizzare il turista in questi settori. Giriamo pagina e vediamo due notizie di cronaca sul resto del Carlino la prima riguarda il tentativo di una vendita di un'auto rubata ad una concessionaria fanese vendita però che non è riuscita perché il concessionario ha capito che c'era qualcosa che non andava tenta di piazzare un'auto rubata un 22enne finisce in manette si era spacciato per un altro ed era venuto apposta dalla Sicilia con questa auto aveva viaggiato parecchie ore anche durante la notte per riuscire a venderla ad una concessionaria fanese che aveva visto che su internet pagava in contanti pagava subito e quindi aveva sfruttato l'occasione però è stato smascherato dal titolare appunto di un concessionario era venuto pensate da Catania a Fano per vendere la sua Jeep Renegade e beh è tornato a casa con il divieto di rimettere piede nella nostra provincia ed una bella denuncia bella va per dire ed una denuncia dopo essere stato arrestato per il reato di sostituzione di persona e poi una denuncia per ricettazione a cui dovrà rispondere in tribunale in un'udienza che è stata fissata il 9 maggio prossimo voleva ricavarci il massimo possibile da questa fuoristrada aveva addocchiato appunto un concessionario di style motor di difano e aveva cercato di contrattare ma il 39enne responsabile dello style motor si chiama giovanni lifavi aveva veramente una cume da detective espulciando i documenti si è accorto che il numero del telaio non corrispondeva a quello che era scritto appunto nelle carte e quindi ha chiamato la polizia la quale ha fatto i dovuti controlli e ha capito che quell'auto era rubata e quindi poi si è attivato tutto il procedimento l'altra notizia qui portata a fondo pagina riguarda un caso di stalking blitz dalla ex e dal suo compagno addirittura sono stati aggrediti in camera in questo caso si tratta di un ventotenne fanese che non aveva accettato la fine della relazione con la sua compagna il caso è classico i due si separano lui però non accetta la fine della storia e perseguita appunto la sua ex addirittura entra nella propria abitazione mentre lei si trovava in camera con il suo nuovo compagno e aggredisce appunto quest'ultimo ebbene il fatto il fatto ora dovrà dovrà essere valutato dal tribunale ma lui ha patteggiato la pena era passato dal balcone aveva sfondato la porta finestra e ha fatto irruzione nella camera da letto dell'abitazione della sua ex ragazza e ha patteggiato una pena a un anno e sei mesi di reclusione per il reato di stalking violenza privata e lesioni questi i reati che sono stati contestati tutto è accaduto in una serata di ottobre di due anni fa appunto a fano ed ora parliamo ancora di archeologia parliamo di archeologia perché insomma questa materia interessa e suggestiona molte molte persone scavi ufficiali 45 mila euro si attende il via ebbene è stato formalizzato dal ministero della cultura il finanziamento di 45 mila euro per continuare gli scavi in via vitruvio scavi che al momento ancora non sono stati iniziati il finanziamento è stato ribadito appunto dal ministero le nuove indagini consentiranno di approfondire la natura negli ultimi reperti ma vediamo anche una notizia in più che fornisce il corriere adriatico l'archeologia risorsa turistica si apre l'area di sant'agostino ebbene che cosa è accaduto è accaduto ieri che l'assessore lucarelli nel presentare l'opuscolo di outdoor ha anche annunciato l'apertura in tutti i fine settimana costante dell'area archeologica di sant'agostino quella che i fanesi chiamano scavi di vitruvio anche se ovviamente vitruvio lì probabilmente non c'entra però insomma l'area è molto molto interessante sotto veramente c'è un complesso monumentale di carattere ecologico di grande rilevanza probabilmente quei reperti appartengono un tempio ci sono muri alti oltre tre metri quindi veramente ancora delle persistenze archeologiche di grande rilevanza e di grande interesse ebbene dopo ritrovamenti in via vitruvio seguiti a quelli non meno interessanti vi ricordate effettuati all'interno del capannone di via de amicis dove sono tornati alla luce i reperti del tempio che si trova sotto sant'agostino quindi è un'ala un'ala che fa da contraltare a quella trovata sotto sant'agostino ebbene la suggestione dell'archeologia attrae sempre di più e ieri l'assessore lucarelli ha comunicato che per la prima volta dalla sua scoperta la prossima estate l'area archeologica ipogea di sant'agostino sarà costantemente aperta al pubblico in tutti i weekend e tutti i turisti che pagheranno la tassa di soggiorno e quindi soggiorneranno negli alberghi potranno entrarci gratuitamente perché questo servizio è compreso appunto nel corrispettivo della tassa di soggiorno quindi una bella iniziativa assunta appunto dall'assessore al turismo e poi il resto del carlino parla ancora del progetto feste della polemica che è nata a margine di questa manifestazione quando la Confcommercio ha posto diversi interrogativi sulla veridicità degli numeri che ha reso noto lo studio praticato dalla università d'Urbino sul risultato economico della manifestazione era Varotti il direttore provinciale che aveva così posto qualche punto interrogativo ora invece interviene l'università e dice che quello studio è stato compiuto con criteri e metodi scientifici vediamo ancora altre notizie sul resto del carlino siamo a Durbino e vediamo come l'ERDIS questo istituto che appoggia appunto gli studenti universitari finanzierà le iniziative degli stessi studenti è stato presentato il nuovo regolamento per l'uso degli spazi ci saranno nuove opportunità di aggregazione e c'è anche un bando per dare anche dei contributi le associazioni studentesche e del terzo settore hanno incontrato appunto l'ERDIS per promuovere sia l'aggregazione ma anche le iniziative che nascono spontanee dagli studenti e queste iniziative potranno essere anche finanziate sostenute dalla istituzione l'occasione è stata quella della presentazione del nuovo regolamento promosso dall'ente per il diritto allo studio e sulla concessione degli spazi a partire dal collegio tridente dove ci sono aule l'anfiteatro al piano terra e poi anche l'erogazione di fondi come un sostegno veramente importante a Cagli si è parlato di sanità si sono esaminati i problemi c'è stato un incontro tra il comitato cittadino di Cagli anche la comunità montana e la consigliera regionale Micaela Vitri del partito democratico sono immersi diversi problemi della sanità di Cagli Cagli è un centro dell'entroterra che assuma in sé diversi problemi perché poi adesso fanno riferimento diverse le popolazioni che abitano insomma nella fascia sub appennina sono emersi tanti argomenti dicevo come l'incertezza di realizzare una nuova struttura sanitaria in periferia in una ex cava affossata e vicinissima al fiume Burano un'altra incognita è stata rilevata nella superficie ipotizzata per la nuova casa di comunità con soli 190 metri quadrati previsti mentre la legge ne prevede ben 800 da dislocare in servizi in 24 stanze inoltre è stato rilevato il fatto che non è stato presentato il progetto entro il 31 marzo da parte della regione con un ritardo che potrebbe così determinare problemi per quanto riguarda la scadenza per i termini non rispettati inoltre c'è apprezzione anche per il futuro delle ex celli un ospedale che tempo fa funzionava a pieno regime e poi è stato come sappiamo molto molto ridotto finché ora è quasi alla paralisi urbino una badante trovata morta nella casa della signora assistita drammatica scoperta mercoledì mattina nella città ducale all'interno di un appartamento di via zena mancini dove una donna è stata trovata morta è stata trovata dalla figlia della signora anziana che questa badante appunto curava la signora non non era molto molto in sé quindi non si era accorta di quello che era accaduto alla sua assistente ma la figlia l'ha scoperta appunto deceduta nel letto andato appunto in camera vediamo anche qualche notizia che riguarda pesaro soprattutto la manifestazione sindacale che si è svolta ieri nel centro storico di pesaro fino a piazza del popolo è stato lo sciopero degli operatori che lavorano nel settore del mobile operai in piazza per le aziende 55 miliardi di fatturato ora alzino i salari affermano i sindacati è stata una manifestazione molto molto partecipata ci sono stati lavoratori che sono giunti a pesaro non solo dalle marche ma anche dalle regioni limitrofe dal molise dall'abruzzo e dall'umbria su circa 2000 le persone presenti queste sono state così calcolate dai sindacati che cosa si chiede si che si cosa si chiede si chiedono circa 135 euro di aumento mentre i rappresentanti delle aziende hanno così si sono fermati su 60 euro quindi c'è ancora molto divario ovviamente i salari hanno perso molto del loro potere di acquisto i prezzi sono aumentati tantissimo in questi ultimi tempi questo non solo nel settore del mobile ma questo è uno dei più colpe di più di più sacrificati di più danneggiati per quanto riguarda l'aumento della inflazione e qui vediamo molte fotografie che riguardano questa manifestazione bandiere slogan veramente è stata una manifestazione che si è fatta sentire molto vivace nei confronti di una realtà economica che a pesaro è stata sempre molto presente molto sviluppata giriamo ancora la pagina e vediamo le condizioni di salute di palmiro ucchielli sindaco di di vallefoglia forza ucchielli gamba e braccio vanno già meglio ma è stata dura e ieri palmiro ucchiello palmiro ucchielli ha risposto al telefono anche ai giornalisti che chiedevano notizie sul suo stato di salute e dice me la sono vista brutta per fortuna sono stati tempestivi medici ma lo è stato è stato anche lui stesso tempestivo nel capire che le sue condizioni di salute cominciavano essere serie perché gli avvertimenti i dolori che aveva sentito non erano solo indolenzimenti oppure dolori articolari ma c'era sotto qualcosa di più serio e quindi ha capito la situazione del ricorso subito all'aiuto dei sanitari ebbene avevo forti dolori di cervicale giramenti di testa ma niente di che avevo preso anche degli antinfiammatori all'inizio ma poi ho visto che non passava allora ho capito che bisognava rivolgersi al medico e quindi all'ospedale ora sta meglio il sangue affluisce affluisce regolarmente nelle sue vene e speriamo che il sindaco il senatore riacquisti in pieno tutte le sue facoltà fisiche mercato settimanale a pesaro la rivoluzione il settore food trasloca in estate andrà sotto l'antennone lato via mirabelli ora pesaro parcheggi farà la graduatoria per assegnare gli stalli dunque il mercato settimanale del martedì 25 aprile si terrà regolarmente l'osserva osservio tamburini che è rappresentante degli ambulanti il trasloco delle bancarelli alimentari dall'attuale piazza bascelè agli stalli sotto l'antennone lato virabello ha confermato l'assessore francesca franquellucci si dovrebbe completare entro l'estate ora tutto questo la palla passa a pesaro parcheggi che è il gestore dell'area e dovrà effettuare la graduatoria per l'assegnazione degli stalli ai vari esercenti quindi abbiamo una rivoluzione per quanto riguarda il mercato chiudiamo il resto del carlino e apriamo il corriere adriatico sul corriere adriatico l'apertura è dedicata alla sanità ancora destano commenti le richieste del sindaco massimo seri effettuate durante l'incontro con la giunta regionale nella sala del gonfalone un incontro in cui gli amministratori regionali hanno reso noto le linee guida diciamo così più che i provvedimenti concreti particolareggiati del nuovo piano sanitario regionale ma c'è il sospetto che l'ospedale santa croce venga ancora depotenziato si teme che venga eliminata gastroenterologia si aspetta il ripristino di ortopedia soprattutto di chirurgia perché un ospedale autonomo non può restare senza chirurgia e oggi abbiamo dei commenti ne parlerà in regione la stessa consigliere regionale capogruppo del movimento 5 stelle marta ruggeri che ha preso una posizione vuole sapere dall'assessore salta martini se veramente gastroenterologia verrà sottratta a santa croce ma interviene anche l'ex primario di medicina interna gabriele frausini che rimpiange un po' il ospedale unico perché lui dice che ci devono essere tanti presidi territoriali ma gli ospedali devono essere pochi ma devono funzionare in maniera veramente efficace devono essere dotati di personale di strutture di strumenti in modo da far sì che ci siano delle specialità efficienti e degli uomini capaci ospedale alto là al depotenziamento frausini la strada e l'integrazione questo è il quello che appare bella la cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio nella sala verdi del teatro della fortuna a fano dove il sindaco massimo seri e la presidente del consiglio comunale carla cecchetelli hanno consegnato il simbolo della fortuna d'oro a due fanesi benemeriti ebbene il premio fortuna d'oro è un premio che ormai vige da diverso tempo è stato consegnato a tantissime personalità che hanno reso famoso diciamo così che hanno dato lustro al nome della città di Fano a livello nazionale e quest'anno sono stati premiati francesco tonucci il così colui che ha ideato e che ha promosso soprattutto il laboratorio Fano la città dei bambini la città delle bambine e dei bambini e Carlo Simoni Carlo Simoni attore attore televisivo attore di teatro attore di cinema conosciuto in tutta Italia a partire dall'epica interpretazione del personaggio di Aglioscia nei fratelli Caramazzo quando la tv era in bianco e nero ma Carlo Simoni è anche un artista in senso compiuto ovvero è un pittore è uno che ama i quadri che ama l'arte che ama il colore e queste combinazioni tra l'espressione teatrale e l'espressione artistica lo hanno reso famoso e poi Carlo Simoni devo dire ha anche tante attività oltre a recitare in teatro coltiva anche una scuola di teatro dedicata a coloro che non sono sani di mente e quindi attraverso l'espressione teatrale possono riuscire ad acquistare consapevolezza di sé anche il progetto Fano la città dei bambini ancora oggi non ancora oggi soprattutto oggi molto sentito costituisce un esempio di come Fano viene resa nota nel mondo perché molti si riallacciano all'esempio di quanto è stato progettato è stato concepito nella nostra città nella fotografia qui vediamo l'articolo nella fotografia compare anche questo signore questo signore che si chiama Nigro ha donato pensate al comune di Fano la sua collezione di macchine da scrivere d'epoca sono cento macchine da scrivere con le quali è stato costituito un museo che ora si trova nell'edificio della scuola Olivetti e poi vediamo altre notizie siamo a Fossombrone si restaura il palazzo del municipio che risale al 1500 municipio restauro in vista facciata e tetto da risanare nell'edificio del XVI secolo sarà eseguito anche l'efficientamento energetico per quanto riguarda Pergole invece un laboratorio creativo e parco rinascono due aree urbane presentati progetti di recupero degli studenti dell'Accademia Poliarte vediamo anche una notizia di Senigallia dove si parla di multe multe piuttosto esose un importo considerevole è stato conseguito dall'amministrazione comunale 2 milioni di euro ma però quattro trasgressori su 10 non pagano nel 2022 si sono ottenuti numeri record e poi ci sono ovviamente le polemiche il comune vuole fare cassa no noi vogliamo fare sicurezza in questo caso si batte il problema la polemica è stata attivata dal PD si vuole far cassa il comune conta solo la sicurezza e questa era l'ultima notizia voglio soltanto ricordarvi gli appuntamenti sportivi di domani visse 5 d'aspo ai tifosi per le contestazioni e il titolo che appare sul resto del carlino alma un solo risultato 3 punti per i playoff ed infine recuperiamo le forze per la vigila che con l'ortona domani anzi oggi può farcela alle 20 e 30 la gara per i playoff e questo per il momento è tutto massimo foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci